Zerbian sei pronto per una challenge veramente veramente assurda? Oggi siamo nel server di ninja, quindi server nord america east Che pinga tipo 120 almeno, a me adesso sta pingando 110 Per vedere effettivamente come fa ninja a vincere ninja Insomma tutta la gente che gioca tipo ninja, nei server di ninja almeno Dicevo come fa questa gente a vincere tutte le partite? Sono loro forti oppure i player che si trovano scontro sono scarsi? Ok Zerbian palmetto che ne dici? Va beh palmetto Let's go Tutti dicono che i player che giocano in questi server sono scarsi Ma sarà effettivamente così oppure ninja che è forte? Bene oggi appunto ripeto stiamo con Zerbian per scoprirlo Un bel like ragazzi se volete altri video del genere 20.000 like vi porto anche il server in Oceania Ovviamente vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campagna per la bella di tutti i prossimi video Perciò tassalo se iscriviti e li fai con la campanellina E mi raccomando raga instagram captain blazer office ha l'obiettivo 100.000 follower Ah ovviamente dovete aver inserito il codice creatore CAP nei negozi oggetti Aspetta, da me è pieno, da me è pieno C'è gente Zerbian? Pieno, pieno Non ci credo, aspetta Uno morto Non me l'ha preso Raga io forse non vi ho detto che laggeranno un botto questi server perché Essendo in Nord America Sì c'è uno da me Sotto sotto Aspetta dov'è? Eccolo No non è sotto Perfetto è morto Quello sotto è morto Vai grandissimo Zerbian Siamo già a 3 kill Ma è un devasto Comunque sì raga vi stavo dicendo Essendo nei server americani Quindi fisicamente dall'altra parte dell'oceano È molto difficile non laggare Perché appunto siamo dall'altra parte dell'oceano Zerbian la sento a sparare Io sto laggando tantissimo Eccolo Ok Ok 31 31 31 Certo che oggi ho la mira Guarda Zerbian come fanno i server così scarsi i giocatori Cioè Sono ridicoli sono Bro era vera sta voce Cioè io sapevo che i player di questi server erano effettivamente scarsi Non tutti lo dicono Ma pensavo che fosse una cavolata Nel senso dico sono tipo i player in Europa E invece no raga sono proprio scarsi Arrivò Ho trovato uno scudone Pieno Sono due Morto uno Cioè vabbè raga Io non so cosa dirvi Oh no era mio quello Eh mi spiace Ma dai Qui uno one shot Ok let's go let's go Ah questa volta trafregatevi Prendo anche il suo pompa Ciao Zerbian Eh vabbè abbiamo un pompa uguale Ci sta ci sta Quanti kill hai Quanti kill siamo Siamo 5 kill la ragazza Siamo 5 kill Così appena atterrati Easy Raga la cosa bella di questi server È che potete fare un botto di vittorie abbastanza facilmente L'unico modo è cercare di non fightare come stiamo facendo noi Perché ovviamente laggerete molto Quindi sarà molto difficile Considerate che per piazzare un muro Beh aspetta adesso sinceramente Cioè è come se laggasse meno Delle partite che ho fatto oggi pomeriggio No no invece io ho sempre Anzi mi sa che ho di più di ping di oggi pomeriggio io invece Davvero No 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 Sì 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 ho 140 Il colpi arrivano Oddio adesso ho tirato una botta di lag Che proprio non è nemmeno Dio Bello questo Comunque Zerbian sto trovando di tutto Armi leggendari di tutto Secondo te il codice capo o il server americano Ma che cazzo No 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 secondo me il codice capo Eh infatti Comunque in realtà non so se è meglio il TAC Quindi l'automatico Oppure il pompa quello lì leggendario Eh perché lagga molto raga Quindi un colpo singolo Diciamo che non è il massimo Perciò sappiamo ovviamente l'automatico È meglio Zerbian comunque qua c'era un tizio prima Che ancora non l'abbiamo chillato Io vorrei sapere dove è finito Eh capo a me stavano uccidentemente colpi pompa Oh tieni dai Tieni dai Raga guarda dove cavolo è la safe Eh vabbè Sì Dovrebbero essere i rift qui Sì ok speriamo Eh beh finalmente Qualcosa di buono insomma Inoltre raga Mi ero scorso di dirvi Di inserire il codice capo Nel negozio oggetti Al momento si è tipo 169.000 L'obiettivo sono i 200.000 E finalmente a quell'obiettivo Appunto vi mostrerò Tutta la mia stanza completa E tutti i segreti che nasconde Me ne state richiedendo in tantissimi raga Quindi mi raccomando Condivete il codice con tutti i vostri amici E arriviamo ai 200.000 supportatori È facilissimo raga Basta darne il negozio oggetti E inserire come appunto Supporto al creatore Il codice capo Voi ci mettete un secondo E avete anche una piccola possibilità Se mi taggate su Instagram Con l'immagine del codice Che io vi mandi La richiesta d'amicizia E vi regali qualche skin Che c'è nel negozio oggetti Giusto per ringraziarvi Zerbian qua c'è qualcuno Che sta fightando Che le dici? Figuro? Sì sì Non lo so Comunque cerchiamo di stare Un pochettino più lontani Perché cercare a fare Travincinati con questi qui Non è il massimo Così invece Ho detto che non è il massimo E io cos'è che ho fatto? E gli sono cascato in testa Aspetta No Sono imbarazzante Sono imbarazzante Zer però sono scarsi veramente questi Cioè nel senso Se noi giocassimo con zero lag Li devasteremo tutti Guarda è imbarazzante È imbarazzante Ma dai ma sono veramente troppo Scarsi ma cos'è? Cioè poi grazie che ninja vince Tutte le partite Oh ma ho accettato Eh ve l'ho detta Un altro team Copriti 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 Zerbian Oddio Fortuna che c'è di card Lascia stare Vieni da me Ma cosa? Ma cosa? Lascia stare Ok chi l'ha c'è un altro? Dov'è? Vieni da me Lascia stare Zerbian Non posso Non potevo buildare Regà Quante chi l'ho fatto Dai Non ci credo Zerbian c'è qualcun altro Non so dove è andato C'è un'altra persona Ma guarda che non mi sposta Vabbè Dove venire? Morto Mamma mia Mamma mia quanto è scarsa la gente Regà è veramente qualcosa di scandaloso No no È qualcosa di veramente troppo scandaloso Zerbian Zerbian c'è uno qua da me Arrivo Un altro zurp Se mi prende mentre lo zurp Non c'è andato l'effetto vero? No Aspetta È un nazza lui Sto arrivando Campera Grazie Vabbè non sto camperando tranquillo Sono due Sono due stai attento Sali Uno killato Ah ma è ma è Sono imbarazzante Oh ma guarda che non mi mette il muro No vabbè regà Mi sto buildando proprio la velocità di un camaleonte morto Sono imbarazzante le persone Perché non mi mette il muro Ma bro Non costruire Sono imbarazzante le persone Sì sì comunque è veramente un livello scandaloso Poi dicono che ninja è forte Forse che ninja le vince tutte raga Cioè non dico che sia scarso raga Non ho mai detto che ninja è scarso Però c'è molta gente più forte di lui Ormai Ormai questa cosa è chiara Nel senso Se io l'aggassi come lui E farei le stesse cose in questi server Perché c'è Veramente è troppo facile Ok raga Seconda partita La prima diciamo che non è finita molto bene Comunque vi ripeto Se volete delle vittorie facili Entrate in server nordamericani America est ovviamente Così è più vicino Se muoio sclero eh Ma com'è Com'è Zerbian E' veramente qualcuno Aspetta che sto arrivando Dov'è Lo sento qua dentro Vai arrivo Arrivo Sotto Piano sotto Sicuro Qua No ma ha preso la sua trappola Da me Morto Non ti posso evitare È morto lui C'è qualcun altro Sono morto dalla sua trappola No 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 Ok let's go Prendo un'altra C'è un altro Zerbian Ti provo a restare Però non ti garantisco niente Zerbian lì c'era il tattico Perché ho preso il popo del no Non ci credo Il tattico è raggato Ok Hai distrutto la trappola Sì sì Ho distrutto tranquillo Raga il tattico è troppo forte Nel server americani Fidatevi che è veramente qualcosa L'idea bastante Perché laggando così tanto Non puoi fidarti del primo colpo ovviamente Zerbian Zerbian Perché mi rubi le ceste Oh no Con lo scudone mio No no Scherziamo Scherziamo Non ci posso credere Attento Sono fuori Fuori dalla casa Dalla mia parte Uno killato Ok Arrivo C'è l'altro Qua da me Sto attento Sto attento Vai tranquillo L'altro giù L'altro per terra Grandissimo Bravo Ok altre persone davanti Come altre persone davanti Che vuol dire C'erano altre persone Altre persone O dove Di fianco alla casa Qua la piccola Ok Dietro non abbiamo nessuno Ok qua da noi Qua da noi Ma come qua da noi Eccolo E' dentro la casa Attento Infilati Vai Eccolo E' qua dentro Tipo sopra Eccolo E' dietro E' dietro E' visto E' sul tetto Ma sta facendo il giro Eccolo qua Ok killato Perfetto Grande Alto da dietro Però poi Io sono io che ho la mira Di un calamaro morto Qua 41 Grande Vai Attento E' qua dentro E' qua dentro Dai ci sta scendando Ma No Zerbian Non ci credo E' qua dentro E' qua dentro E' qua dentro Dai che è morto Perfetto GG Vai Zerbian Ti resta Rompi sopra Rompi sopra Speriamo che non arrivi Nessun altro O speriamo che non mi spari In qualche modo strano Comunque non si è messi male Te quanti kg hai? 5 kg Ok Niente male Siamo nella save Ok cure qualcosa Non ho niente di cure Però ti posso lasciare Se vuoi questo qua Eh no ce l'ho già Ho fuori c'è qualcuno C'è nessuno Fatemi sentire se ci siete Vabbè penso che si facciano sentire Se ci sono Ok in teoria non c'è nessuno Nel senso Corso dovrebbe essere nostra Forse Io sono messo malissimo eh Proprio armi e vita Comunque sai che Io adesso che ci penso Se noi killiamo uno laggando Quello che viene killato Si vede laggare Quindi è anche più difficile per lui alla fine Ma adesso che ci penso Se io muoio E tu mi rigenerai col camioncino quello lì Mi dà 100 di vita Giusto? Sei un genio Zerbian sei un genio Te lo stavo per dire Vai killa Ammazzati in qualche modo Vieni qua Vieni qua Quindi all'angolo Aspetta un'idea un'idea Eh no non posso farti saltare Vieni qua Zerbian Sali su questa scala E non buttarti No non ce la faccio Aspetta un'idea Vai pronto Vai Zerbian Oh ci sta ci sta Vai ora aspetta Sei pronto 3 2 1 Vai Zerbian Ciao Secondo me non prendo danno Sei morto sei morto Ah ok Vai perfetto Ora io prendo la tua schedina Ti immagini non mi dava la scheda Perché ti avevo killato io Oh ma cosa mi freghi Caffo Preghiamo un po' di roba Ok andiamo a restarti Perfetto Se ti checkilano adesso E infatti se mi checkilano ora È un bel problema Considerate che Devo andare dall'altra parte del camioncino Tipo di qua Vai let's go Buongiorno Zerbian Beh ottima idea comunque Quella di rigenerarti Adesso hai 100 di vita Gente gente dietro di te Eccoli 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 Lui si Ma questo quando se ne ho neanche accorto Ma questo Ma questo quanto è forte No 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 Da me da me da me One shot Da me da me da me One shot One shot entrambi Mori sempre Mannaggia Teo Uno one shot Eh ma io ho 5 di vita Anche io sono one shot E quello è il problema Zerbian Non posso morire in questo modo Ti prego È il problema che Ci faccio uno vi uno contro di loro Loro vincono per forza Perché pingano meno No dai E raga Niente su tutte le partite Che abbiamo giocato Anche oggi pomeriggio Fuori camera Abbiamo scoperto che Sì Giocarne i server di ninja È molto più facile Ma solo per chi gioca da New York Oppure dal Nord America Perché altrimenti È troppo difficile Cioè non puoi giocare pingando 120 È proprio una cosa impossibile Vedete che il colpo parte in ritardo E quindi è troppo difficile 20.000 like E proveremo a vincere Una partita Nei server In Oceania E da questo vi ricordo Vi ricordo di iscrivervi al canale Attivare la campanella E oltretutto canali di Zerbian Secondo canale con la sua iscrizione Ovviamente non perdetevi Instagram CaptainBlazerOffice All'obiettivo 100.000 follower E mi raccomando raga Obiettivo 200.000 supportatori Su supporto anche a Tone Con il check up Vi ricordo che 200.000 Finalmente vi svolgerò Alla mia stanza Con tutti i suoi segreti Perciò raga 200.000 supportatori Dai che ce la facciamo Detto questo Sperate di tutto Spero che vi sia piaciuto E noi ci vediamo In questo video Ciao Assurma